I migliori successi del cantautore e chitarrista Gatto Panceri saranno al centro della sedicesima edizione di Saltarua, l'evento artistico musicale che si svolgerà venerdì 15 luglio nel centro storico di Saltara. Da Le Tue Mani a Mia, l'artista italiano farà cantare e divertire i visitatori della manifestazione organizzata dalla Proloquo Cittadina. Oltre alla musica, come da tradizione, sarà possibile cenare negli stand gastronomici degustando i menu tipici. Venerdì sera, venerdì 15 luglio, si terrà la sedicesima edizione di Saltarua, Borgo in Musica, e quindi le vie, le piazze di Saltara saranno in base dalla musica dei vari artisti che si esibiranno. A partire dalle ore 19 sarà visitabile la galleria degli artisti e apriranno gli stand della Proloquo di Saltara. Poi dalle ore 21 avranno inizio i concerti, quindi siete tutti invitati e l'ingresso è gratuito. Chi saranno gli ospiti quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo gli Emerald Leaves Duo, il Quartetto Fantasma e i Crisi Jambè nel centro storico. E a concludere la serata il noto cantautore Gatto Panceri. Come al solito sono tanti i patrocini, le persone che collaborano per realizzare la manifestazione. Sì, oltre all'aiuto dell'amministrazione comunale, l'associazione delle arti di Calcinelli, la regione Marche, il consiglio regionale delle Marche, l'UMPLI, provinciale, regionale, nazionale e tutti i volontari della Proloquo di Saltara. Vi aspettiamo a partire dalle 19 nel centro storico di Saltara per divertirci insieme.